Nell'episodio precedente il fantasma Bubu ha informato i nostri amici sull'attività delle spie che ora sopraggiungono che succede gli agenti federali dai a che paura, aiuto senti sfregiato, non ci staremmo mica circondando zitto al riparo presto sentito ci hanno preso per agenti federali giochiamo sul fattore sorpresa ottimo pronti a entrare in azione? coraggio uomini li abbiamo circondati oh poveri noi ce ne sono dappertutto voi andate da quella parte si certo, tutti da quella parte vieni ciccio, figliamo fin che siamo in tempo su sfregiato, alzati, ti sembra il momento di riposare li abbiamo spaventati a morte qui ci vuole un bel piano d'attacco un piano eh, un piano ecco laggiù ci sono dei piani bene, fanno al caso nostro vediamo un po', questo è per una squadra di calcio? no, non va, finiremo in serie B con questo ecco, qui ce n'è un altro cura dimagrante, si, 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 questa è buona io l'ho fatta, è perfetta venti chili in due giorni ma è poco adatta alla circostanza oh, siete qui, siete qui da un momento all'altro dovrebbe arrivare un corriere con delle informazioni per i contrabandieri buongiorno signora, c'è suo marito lei è per caso il dottor Livingstone? non conosco proprio nessuna spia che si chiami Livingstone parola d'ordine sopra la panca la capra campa, sotto la panca la capra crepa no sopra la panca la capra canta no rosso di sera, quel tempo si spera? risposta esatta, come stai David? ho preparato una borsa uguale a quella ma che contiene informazioni false dentro questa borsa c'è una bomba se cadesse in mani nemico esploderebbe al momento dell'apertura ottima idea David, bravo grazie ecco fatto, ora non ci resta che scambiare le due borse aspettate, aspettate, adesso vado a prendere la borsa è già pronta bravo io sono l'unico che può aprirla senza saltare in aria forza ragazzi, adesso non stanno guardando ce l'abbiamo e si, ma, ma male, da dove vengono tutte queste borse? non importa, apriamole e troveremo quella giusta d'accordo, cominciamo da questa non perdete il prossimo esplosivo episodio come? è già capodanno? no? 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 no?